Questa cassetta, ecco, questa settimana sono i 50 anni di uno dei dischi più famosi di tutti i tempi, The Dark Side of the Moon, non interesserà a nessuno, ma il primo disco della mia vita che ho comprato costava 4.500 lire. La mia prima paghetta a 14 anni mi sono comprato questo meraviglioso album, non so se possiamo sentirne un pezzo, insomma è un capolavoro assoluto della musica, una cosa che ha cambiato la storia della musica, e adesso vi dirò perché ho una musica a sette in mano, però volevo chiedere a tutti noi, questa musica a sette ci ricorda che cosa, uno dei momenti più belli della nostra giovinezza, quello in cui facevamo le complesse, mettevamo a casa, non c'era ancora la possibilità di farlo in maniera elettronica, bisognava mettere i dischi, mettere la canzone giusta, poi sfumarla, poi far entrare quella dopo, e che io volevo chiedere a tutti e tre, visto che sono gli 80 anni di Lucio Dalla e di Lucio Battisti, cominciamo da Fabritto, poi vediamo in qua, una canzone che metteresti nella tua compilation di Dalla e una di Battisti. Una, difficile, difficilissimo. Futura, Futura Lucio Dalla, io vorrei, non vorrei, ma se puoi, che contiene uno dei versi più belli, insomma, come può uno scoglio arginare il mare? Come può uno scoglio? Beh, difficilissimo, e io sono cresciuta nella musica, perché mio papà aveva un negozio di dischi, quindi anche, vi ricordo, anche Pink Floyd, sì, assolutamente ricordo proprio le copertine, da bambina a memoria visiva, quella copertina al di là, insomma, del capolavoro musicale, proprio le copertine, l'oggetto fisico, che oggi purtroppo è raro avere, no, questo culto dell'oggetto fisico. Allora, no, Battisti, un po' malinconica, però io ti dico i giardini di marzo, perché hanno rappresentato per me una fase della mia adolescenza più sofferta, importante, e Dalla, grande conforto per me, era la canzone, è la canzone Piazza Grande. Piazza Grande. Lella, a te. Sempre, difficilissimo, tra l'altro io pensavo che quando uscì Dark Tide of the Moon, ero ancora, insomma, sono un pochino più grande, quindi ero più grande, ero ancora sotto shock, perché due anni prima, più o meno, era uscita Stairway to Heaven della Zeppelin, che secondo me è il capolavoro assoluto, quindi, come dire, forse loro li ho scoperti un po' dopo, perché ero ancora sotto quello spesso. Ero ancora sotto l'effetto della Zeppelin. Sotto l'effetto, direi forse un'avventura di Lucio Battisti, perché lì poi lui ha un uso della voce assolutamente straordinario, e da una parte vorrei disperato erotico stomp, perché mi faceva molto riter, dall'altra però anche quale allegria, che invece mi faceva molto piangere. Beh, direi che abbiamo fatto una bellissima compilation e parliamo di musica a setta, perché, Fabrizio, questo oggetto ci porta dentro una storia, guardate queste immagini, vedrete un Gifuni come non l'avete visto mai, guardiamo. Ciao Carlo, è sempre bene, sempre bene quando ti sento. Ascolta, però qui c'è un altro errore che vedo sul foglio degli altovendenti. Eh, guarda bene, la lettera M, è come Monza. Eh, e risulta un ordine di 5 miliardi di lire in cassette vergini, una certa Mixed by Henry SRL. Ora però, siccome questi documenti cari li porto io al CDA, ma non è che posso mettermi ogni volta con la matita? In che senso non è un errore? E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette vergini? E chi se ne compra 5 miliardi di lire dell'epoca? Le comprano i fratelli Frattasio. Chi sono i fratelli Frattasio? E' un film, ma è una storia vera. E' ispirata molto realisticamente a una storia vera. I fratelli Frattasio sono una specie di mito nella Napoli degli anni Ottanta. Sono dei fratelli che iniziano appunto con le compilation, soprattutto uno di loro tre, Enrico, diventa un po' che era un genietto musicale, iniziano un piccolo negozio a lavorare a queste compilation. Queste compilation diventano famosissime nel quartiere. Perché il titolo del film è Mixed by Harry. Mixed by Harry. Lui era quello che le preparava. Lui voleva fare il DJ, quindi a un certo punto cambia il suo nome da Enrico DJ in Mixed by Harry. Ma queste compilation diventano famose a tal punto che dal quartiere si diffondono in tutta Napoli, in tutta la Campania, in tutto il sud Italia. E il fenomeno gli sfugge di mano, nel senso che diventano nel giro di pochi anni la prima industria discografica italiana per vendita. La vendita è pazzesca. Nonché la più piratata. Cioè, come succede a Napoli, quelle cose meravigliose, ci sono i Mixed by Harry originali. E poi c'è l'etichetta più piratata a sua volta. E' una storia meravigliosa che Sidney Sibili racconta con un ritmo travolgente. E tu interpreti questo personaggio? Allora, quel signore che avete visto si chiama... Con un meraviglioso accento milanese. Si chiama Arturo Maria Barambani. E' già il nome la dice. E' il nome vero, proprio? Non è un nome d'arte? No, è un nome d'arte. Il Barambani è un nome d'arte. Lui è una specie di piccolo archetipo della Milano da bere degli anni Ottanta. E' l'amministratore delegato di una grande azienda, di una grande holding, che si occupa sia di musicassette, ma che ha anche un'etichetta musicale. E stringe un patto di vendita con i fratelli Frattasio. Cioè, gli propone di avere l'esclusiva con la sua azienda per la vendita delle cassette. Non vado avanti nella storia, perché, come si dice, con brutto teme, e non voglio spoilerare la fine, naturalmente inizia e finisce con il carcere, perché di reato stiamo parlando, ma stiamo in un territorio a Napoli, in quel periodo, in cui c'erano fondamentalmente tre strade. Chi praticava con fatica e con coraggio la legalità ogni giorno, chi si dedicava alla grande criminalità organizzata. E poi in mezzo c'era quella famosa arte di arrangiarsi, che ha fatto, diciamo, la fortuna del teatro e del cinema napoletano. Quindi loro iniziano proprio, vengono da una famiglia in cui c'è l'arte di arrangiarsi. Il padre smerciava whisky di contrabbando, contraffatto, che in realtà era te, con la sostituzione della bottiglia per gli americani della Nato. È una storia incredibile, travolgente. L'unica cosa che voglio dire brevemente è che la scuola napoletana di attrici ed attori è una specie di cornucopia senza fine. Cioè, è incredibile. Giuseppe Arena. Arrivi a Napoli e trovi tantissimi attori. Luigi Doriano. Questi ragazzi sono straordinari. Uno più bravo dell'altro. Dai più giovani fino a Cristiana Dell'Anna, a Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo. Cioè, ci sono diverse generazioni di attori che giocano come gioca adesso il Napoli Calcio. Cioè, in maniera irresistibile. Ieri era strepitoso, nonostante ieri sera. Vabbè, bellissimo. Andremo a vedercelo.